E voi che l'avete in casa siete, siete stati capaci di scegliere, di scegliere un oggetto importante, un oggetto d'epoca, un oggetto rappresentativo, un oggetto di personalità, ma soprattutto a 6.500 euro avete saputo cogliere il momento magico. Vedete, in questo momento ci sta vedendo l'Europa, questo non vuol dire che ci vedano milioni di persone, non è così, perché l'affluenza di telespettatori sul satellite è inferiore di quella della radiofrequenza, questo lo sappiamo perfettamente, è un pubblico più scelto, più mirato, un target diverso, però numericamente è inferiore, però se ci raffrontiamo tutta Europa sono migliaia di persone che vedono questa trasmissione in questo momento, non dico milioni, migliaia, 1.500, va bene? 1.500 persone, non tante, ma anche 150 non mi interessa. Però, io ti sto dicendo, gentile amico, un orologio, ripeto, alto, orologio d'appoggio naturalmente, 86 centimetri, per darti anche la dimensione, mi ci metto a fianco, io sono molto grosso, forse lui sembra più piccolo, in realtà è bello, 86 per 43, per 15, del 700, funzionante, a 6.500 Euro, lo puoi perdere? L'alternativa qual è domani? Non mi interessa, non lo voglio, e non mi piace, chiudo, non ne discutiamo più, ma se c'è quel piacere di un'immagine importante come è lui, è importante, l'alternativa sarà quella di pagarlo di più domani o dopo domani, perché a 6.500 voi non lo trovate più, da 700, ma non è la solita frase fatta, rifatta, trita, retrita, noi vendiamo gli antiquari e questo glielo vendiamo a 6.500, noi vendiamo le case d'asta e la base d'asta è 6.500, voi capite che ci sono solo 4 o 5 persone in un'asta internazionale che gli piace questo orologio del 700, cosa fanno? Ma arrivano a 15, 18 mila come ridere, tutto bronzo scolpito, tutta lavorazione bull con tartaruga e bronzi, ma dimmi tu se non è una magnificenza anche questa figurazione alata con la mano slanciata verso l'alto per la vittoria, ma dimmi tu se non è uno di quegli orologi, chiaramente diciamo l'aggettivo, principeschi, a 6.500 euro, a 6.500 euro, se lo perdi lo perdi, non ho, vedete, alla differenza poi quale sarà? Sarà che questo andrà in asta o lo comprerà un antiquario, lo illuminerà come si deve nella vetrina del suo negozio, magari su una bella consolo quello che è, una bella luce, una bella pulita, magari gli fa ridorare per renderlo ancora più appariscente e qualcuno andrà in quel negozio, bello, quanto vuole 35.000 signore del 700? Eh sia!